Sì, oggi era sicuramente importante dar continuità, c'era un po' il rischio dopo la grande prestazione di domenica a Campo Verde di magari un caldo di tensione, ma invece no, abbiamo dimostrato grossa notorietà con una squadra che comunque, ricordiamoci che fino al giro d'andata, puntava a vincere anche il campionato, quindi una squadra messa bene in campo, però siamo entrati decisi per prenderci subito il risultato e si è incanavata nel verso giusto. Il proseguimento sarà che adesso ne abbiamo una intanto fuori casa e ci giochiamo questa. Cerchiamo di andare a vincere questa perché ormai ci siamo, mancano le partite e l'obiettivo è a portata di mano, dipenderà soltanto da noi e quindi l'affronteremo una alla volta, quindi adesso c'è a domenica Nettuno fuori casa. Sì, sicuramente questa è una squadra che tecnicamente ha grossi mezzi, ma può migliorare ancora tanto di testa e oggi proprio in quel frangente dobbiamo già dimostrare di poter competere in altre categorie perché appunto mancano tre partite e questi sono errori che poi potresti anche pagare, quindi sicuramente da quel punto di vista dobbiamo ancora migliorare.